Prima Pasqua senza restrizioni, dopo due anni di pandemia, Polizia di Stato è impegnata nei controlli soprattutto in città a Brescia, dove per fortuna non si sono registrate particolari criticità, nonostante una mega manifestazione dei SIC in centro sabato pomeriggio e le numerose presenze in tutto il fine settimana di Pasqua. Impegnati nei controlli più di 30 poliziotti, con l'ausilio di 20 unità di rinforzo con personale dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. Non sono mancati interventi dedicati, come possono comunque essere considerati di routine. Venerdì gli agenti delle volanti sono intervenuti per un caso di maltrattamenti in famiglia ed hanno arrestato un cinquantenne che minacciava padre e sorella per estorcergli il denaro. Nello stesso pomeriggio un sessantenne è stato arrestato per spaccio in flagranza. Altri due arresti per spaccio nella notte, quando due quarantenni sono stati sorpresi con cocaina, marioana e denaro contante, presunto provento dell'attività di spaccio. Hanno cercato di fuggire ai militari, di disfarsi degli ovuli e hanno aggredito i poliziotti.